La letalità del covid-19 si è ridotta se fino a giugno morivano quasi 15 pazienti su 100 oggi ne muoiono circa 12 ma i contagi da coronavirus sono in forte crescita soprattutto nelle regioni del centro-sud con Sardegna, Campania, Lazio e Sicilia che dal 16 giugno al 24 settembre mostrano un incremento di positivi che va dal più 154 per cento al più 83,8 per cento. Numeri che suggeriscono come la fase che stiamo vivendo non sembra avere le caratteristiche di quella precedente e quanto emerge dall'aggiornamento dei dati relativi all'emergenza covid-19 dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute coordinato da Walter Ricciardi, ordinario di igiene all'Università Cattolica di Roma e da Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell'Osservatorio. L'andamento preoccupante di queste regioni spiegano gli autori del rapporto Servasalute viene confermato anche guardando al numero dei contagi medi giornalieri. In Campania era pari a 67 casi nei primi 60 giorni della pandemia dal 24 febbraio al 23 aprile mentre negli ultimi 60 giorni dal 27 luglio al 24 settembre è salito a 102. In Sardegna nello stesso periodo si è passati da 21 a 35 casi medi giornalieri, nel Lazio da 101 a 110 e in Sicilia da 49 a 53. Ad allarmare anche il fatto che in queste regioni si riscontra anche un numero più basso di persone sottoposte ai test 11,7% abitanti nel Lazio, 9,3% in Sardegna, 6,7% in Sicilia e 6,1% in Campania. Ma fortunatamente la letalità continua a restare tra le più basse. 4,1% decessi ogni 100 contagiati in Campania, 4,3% in Sicilia, 4,6% in Sardegna e 5,9% nel Lazio rispetto ad una media italiana di 11,8. Al contrario Lombardia e Piemonte, le due regioni che nella prima fase della pandemia sono state colpite più violentemente dai contagi, nella seconda fase presentano un incremento più limitato dei nuovi contagi, rispettivamente del 14,6% e dell'11,5%. Il numero medio dei contagi giornalieri dal 24 febbraio al 23 aprile era pari a 1.169 in Lombardia e 386 in Piemonte. Dal 27 luglio al 24 settembre sono scesi rispettivamente a 159 e 51 contagi. In Lombardia però resta la percentuale di letalità più elevata, 16 decessi ogni 100 contagiati.